vi starete chiedendo cosa c'è da festeggiare ma come non lo sapete oggi a roma meloni ha riunito tutta l'intera comunità di suo riferimento per un grande festeggiamento un anno da quando ha vinto le elezioni e di governo sapete come ha chiamato e intitolato questa festa l'italia vincente un anno di risultati di grandissimi risultati tutto quello che abbiamo da dare lo dobbiamo dare agli italiani hanno voltato le spalle a chi non ha niente al ceto medio affossato dal caro vita ai nostri giovani ai quali san propone solo contratti precari oggi con loro possono brindare però corrotti evasori qualche colletto bianco e sicuramente tutta l'industria bellica vi ricordate quando tutti insieme abbiamo lavorato per risollevare il paese nel momento più duro dal secondo dopoguerra oggi non permetteremo che meloni e soci mettano in ginocchio il nostro paese la nostra italia la priorità deve essere il bene della nazione